Dagli studi del professor Carlo Starnazzi ai recenti lavori del professor Carlo Pedretti, il tutto riunito all'interno del museo Leonardo e l'Aretino, nato dalla volontà di riscoprire la fatica ventennale dello studioso Aretino scomparso nel 2007, per gran parte incentrata sullo studio dei legami tra Leonardo e il territorio Aretino. Il museo sarà inaugurato sabato 16 luglio alle ore 11 all'interno della ex scuola elementare a Ponte Buriano e quindi proprio alle spalle di uno degli scenari più suggestivi della provincia, il Ponte della Gioconda. Sono previsti anche una serie di interventi precedenti al taglio del nastro tra i quali quello del professor Sartori che illustrerà gli studi del professor Starnazzi e quello dell'architetto Massimo Ricci, direttore scientifico e coordinatore del progetto per il restauro del ponte finanziato dall'UNESCO. La giornata dell'inaugurazione vedrà anche lo scoprimento di un busto di Leonardo donato dal professor Carlo Pedretti, curatore scientifico del museo ed esperto del genio Vinciano.